con skype, google, youtube, wikipedia in altri veneti siamo al stesso livello linguistico degli italiani non li sei superiori, non li ga a monopoli rendo la gabbia internet, che la sei inglese e possiamo sviluppare la nostra identità fin a superarli, la non li puoi censurarmi bisognero cascar che il monopolio, che li ga vupo a 140 anni con la scuola d'estato, quei libri